Taranto non si arrende. Con questo slogan è stata organizzata la seconda fiaccolata per le vittime dell'inquinamento a Taranto. Un momento di commemorazione, di denuncia, ma anche, forse, soprattutto, di speranza. La fiaccolata si terrà il 26 febbraio prossimo con il raduno alle 17 in Piazza Maria Immacolata. Poi il corteo muoverà in direzione Piazza Garibaldi. Alle 18 poi il momento di denuncia e speranza in Piazza Garibaldi. Una fiaccolata che ha un significato, quello di dimostrare che i tarantini non abbassano la guardia. Certamente, è proprio questa l'importanza. Questa fiaccolata prevede tre momenti. Oltre alla commemorazione c'è anche un momento di denuncia e un momento di speranza. La denuncia è proprio quella che il governo italiano, nonostante la condanna da parte della Corte dei diritti dell'uomo, ancora ci lascia in una situazione di pericolo. La speranza è che possa cambiare il futuro di questa città, ad esempio, concedendo una no tax area che potrebbe attrarre sul nostro territorio imprese ecocompatibili. Quello del 26 febbraio è un evento che vuole in qualche modo anche celebrare la sua Miriam. La manifestazione del 26 febbraio vuole celebrare il ricordo di tutte le vittime che sono tali a causa dell'inquinamento dei polizidi d'Urgici di Taranto e non sono della mia Miriam. E' per questo che noi lo stiamo promuovendo, per portare ancora voce a chi voce non ce l'ha più, ai nostri cari che non ce l'hanno fatta. E soprattutto vogliamo far presente che questa situazione deve terminare. Non si può assolutamente morire in questa maniera, solo per incrementare gli interessi economici dei polizidi d'Urgici.